Da sabato 22 giugno al via le corse del metro del mare Cilento Blu. Nei weekend a venire saranno da e per la costa cilentana, mentre durante i giorni feriali da e per Capri, Amalfi e Positano. Quest'anno partenza con anticipo 22 giugno anziché il primo luglio. Quest'anno si rinnova l'appuntamento con il metro del mare, collegamenti per Amalfi, Positano, la costa cilentana e questo certamente sarà un appuntamento da non perdere per i nostri turisti che verranno a trovarci in città ad Agropoli. Quindi li invitiamo naturalmente a utilizzare queste corse. Naturalmente credo che la corsa più importante sia quella per Capri, che è certamente più affascinante, ma devo dire che tutta la costa presenta un'attrazione di grande importanza. Quindi siamo felici anche quest'anno con anticipo di aver cominciato questo servizio. Ringraziamo naturalmente la regione Campania per aver collaborato con noi e speriamo che anche quest'anno sia ricca di presenze e di risultati positivi.